perché partiamo con la nomination per la miglior fotografia e tra un po' eccoli qua vediamo le tre nomination, sono in nomination Javi Aguirre per Asamara Massimo Intoppa per Forme, Fabio Cianchetti per Il mio ultimo giorno di guerra questi sono i tre cortometraggi e le tre fotografie abbiamo recuperato la motivazione perché adesso vi diciamo chi ha vinto vince come miglior fotografia a questo secondo festival del cortometraggio Javi Aguirre per Asamara, spieghiamo perché la giuria assegna il premio per la migliore fotografia ad Asamara per essere riuscita ad illustrare come un quadro che prende vita gli aspetti contraddittori di un continente che oscilla fra lo splendore dei paesaggi e la devastante realtà della tragica lotta per la quotidiana sopravvivenza